Buongiorno a tutti quanti a voi, buon venerdì, venerdì 14 giugno 2024. Siamo ormai vicini a un nuovo weekend e sono tante le notizie che oggi racconteremo, tanti gli approfondimenti, alcune come sempre le troveremo sulle pagine dei giornali, anche sui siti web, poi altre notizie che hanno cambiato un po' il corso della mattinata, soprattutto in ambito calcistico, soprattutto a Cosenza, perché sono arrivate proprio da poco notizie, non solo notizie importanti, novità per l'avvio della stagione calcistica del Cosenza Calcio, quanto anche un po' inattese e anche allo tempo stesso ufficiali. Non si parla più di indiscrezioni, ma si parla di notizie ufficiali. Cosa è accaduto? Andiamo a riassumere velocemente. Questa mattina al mezzogiorno, iniziato con qualche minuto di ritardo ed è terminata davvero pochi istanti fa, c'è stata la conferenza stampa di presentazione dei nuovi due dirigenti del Cosenza. Parliamo del direttore sportivo Gennaro Del Vecchio e del direttore generale Beppe Ursino, che sono stati presentati dal presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. Ovviamente nel corso del nostro telegiornale daremo spazio a tutti quelli che sono gli argomenti sviscerati nel corso della conferenza stampa, che vi proporremo anche in versione integrale oggi pomeriggio e poi stasera in replica. Ma al di là di questo ci sono stati, al di là di tanti aspetti di estremo interesse per i tifosi del Cosenza e non solo, per gli appassionati di calcio in generale, perché c'è da conoscere queste importanti figure. Beppe Ursino è decisamente conosciuto in Calabria, ma insomma era fermo da tre anni, ritorna, si mette in gioco in un grande club. Gennaro Del Vecchio è un direttore sportivo molto giovane, in rampa di lancio, che vuole crescere anche attraverso il suo lavoro a Cosenza. C'è da conoscere quelli che sono i programmi, c'è da conoscere tanti aspetti legati al loro lavoro e insomma questo ce ne occuperemo nel telegiornale, poi ovviamente anche nella conferenza stampa integrale che vi proporremo. Ma la mattinata è iniziata con due nuove notizie importanti, per non dire fondamentali, proprio per la stagione del Cosenza. La prima notizia la facciamo annunciare, per così dire, ecco perché dicevo è una notizia ufficiale, e allora la facciamo annunciare direttamente al presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. Sentiamo Guarascio. Siamo, come dire, in presenza di, per me in particolare, del direttore generale che è Ursino, che, insomma, vi confesso che questo innamoramento sta durando da circa tre anni, quindi se ci sono state criticità o altro, diciamo che la colpa, diamo a lui, ma faccio giusto una battuta, ma comunque ecco, quest'anno si è deciso e quindi questo per noi, per il Cosenza è importantissimo. Ovviamente devo fare lo stesso ragionamento per il direttore sportivo Gennaro Del Vecchio, il quale è un giovane, vi dico, ma di quelli proprio che ha voglia, è uno che ha un'esperienza importante dal settore giovanile fino all'esperienza ultima con il Verona e quindi mi ritengo, e ci riteniamo, perché poi a me piace che si parla al plurale, perché io ovviamente sono una semplice elemento di tutta la società, perché ovviamente la società è composta da tanti componenti, a cominciare da Roberta Anania, che ringrazio per quello che sta facendo e per quello che fa, ci sono tutta una serie di altri elementi, però ritengo che la presenza appunto del direttore generale, del direttore sportivo, può rappresentare per il Cosenza, come dire, un miglioramento verso quelli che sono stati i percorsi, verso quello che poi in effetti abbiamo svolto in questi anni. noi, come dire, oggi è un giorno particolare, oltretutto, ragion per cui sentitemi, sentitoci con tutti i componenti della società, vi devo dare una bella notizia. ovviamente questa notizia è stata condivisa un po' con tutti, sia la parte amministrativa che la parte tecnica, eccetera, la bella notizia è che abbiamo avviato, quindi abbiamo riscattato il nostro tutino. Ed ecco, questa è la prima notizia di giornata, la notizia sicuramente più importante è quella che i tifosi del Cosenza stavano aspettando, l'aspettavano già da parecchio tempo, Tutino resterà al Cosenza, o meglio, Tutino verrà riscattato dal Parma, è stato riscattato, ha detto il Presidente Guarascio, abbiamo sentito le sue parole, dal Parma, adesso si faranno dei ragionamenti, resterà al Cosenza, non resterà al Cosenza, verrà poi venduto per capitalizzare, la somma verrà sfruttata in sede di campagna acquisti, questo lo vedremo, ovviamente parola adesso a Ursino e ovviamente anche a Del Vecchio, oltre che al Presidente Guarascio, e di questo si è anche parlato poi in conferenza stampa, ripeto, ne parleremo nel nostro telegiornale, poi sentirete proprio sul nostro canale, sempre su Ten, tutta la conferenza stampa. Dicevo più di una notizia, e come si dice, in questi casi c'è chi va e c'è chi viene, e allora per un Tutino che viene confermato, c'è chi invece arriva, e c'è chi invece va via. Chi va via? Lo sentiamo dalla viva voce, a questo punto non più del Presidente Guarascio, ma proprio del Direttore Sportivo Ursino, presentato questa mattina, del Direttore Generale, chiedo scusa, Ursino, presentato questa mattina, che dà una prima notizia a tifosi e giornalisti, per la verità la notizia, mentre per Tutino la notizia era nell'aria, la notizia inversa, cioè molte testate avevano, forse frettolosamente, pubblicato, e anche pochi minuti prima, la notizia del non riscatto di Tutino, poi Guarascio ha spiazzato tutti, adesso invece, per quanto concerne un altro personaggio, del Cosenza Calcio, che va via, qui i rumors erano quelli giusti, ma sentiamo, Ursino, che notizia dà ai tifosi e ai giornalisti. La cosa principale, io ho fatto sempre nella mia vita, dei passi, allora nel calcio la prima cosa è la salvezza, poi viene i play-off, e poi non lo so. Senza illudere nessuno, e senza la cosa principale, prima è la categoria, che è la cosa principale. Andremo a fare sicuramente poi, la squadra, perché vi voglio comunicare un'altra cosa, anche se il giornale già avete scritto. l'allenatore non è più Viali, ma non è Viali, e devo, siccome vi ho detto che dico la verità, devo dire, il nostro Presidente gli ha offerto due anni di contratto, lui voleva due anni di contratto, e il Presidente gli ha offerto due anni di contratto, lui ha detto di no, che non era motivato, ma ognuno prende la sua strada, però, bisogna dare atto alla società, che ha fatto di tutto, per confermarlo, e eravamo d'accordo tutte e tre, come al solito, perché le decisioni, si prendono insieme, e lo volevo dire per correttezza, per correttezza, questo qui, quindi non ho più niente da aggiungere, vi auguro anche a voi, prima, buone vacanze, e poi, di fare un grandissimo campionato, che è la cosa principale. Ci auguriamo anche a noi, che il Cosenza possa fare, un buonissimo campionato, con tutino o meno, vedremo, comunque è stato riscattato, questa è la notizia la mattinata, la seconda notizia, è la partenza di William Viali, dove andrà, raggiungerà Gemmi all'Empoli, vedremo, vedremo anche, chi sarà il prossimo allenatore del Cosenza, e prima di passare, a un'altra notizia, una notizia bella, perché purtroppo dobbiamo sempre alternare, belle e brutte notizie, e diamo un'occhiata però, alla prima pagina del quotidiano, perché oggi è in programma, una seduta delicata, del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, seduta aperta, e alla questione ponte, al Consiglio Comunale d'Aperto, che doveva, insomma, i cui temi, il cui tema era il ponte sullo stretto, si aggiunge quello anche dell'inchiesta, e allora, ponte inchiesta e scontro a Reggio, oggi la seduta è dedicata al confronto, con l'associazione Cittadini su prospettive, ricadute dell'opera, Forza Italia, diserta la riunione, e chiede le dimissioni del sindaco, indagini serie. Bene, questa è una notizia, che sicuramente il ponte genera consensi o meno, insomma, a secondo di quelle che sono le diverse opinioni, su questa infrastruttura, e poi c'è l'inchiesta, che sicuramente sarà approfondita da chi di dovere, e saranno emesse poi le sentenze al momento giusto, e abbiamo parlato ovviamente, quando però ci sono delle inchieste, comunque non è una pagina così positiva, noi però adesso vogliamo passare a un altro argomento, che è una pagina invece decisamente positiva, perché abbiamo parlato di ponte, allora il ponte ci porta dove? Nel mare, in mezzo al mare, e magari a fare una bella crociera, perché diciamo questo? Perché ho collegato con me, lo vedo, sì c'è, possiamo mandarla in onda a Enzo Leonetti, grazie come sempre per il contributo, e grazie a Gianfranco Cimbalo, responsabile marketing del progetto Calabria da Mare, benvenuto Gianfranco. Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, perché parlavo di crociere, e perché parlavo di un bel argomento? Perché all'interno di una crociera, che si svolgerà nel mese di ottobre, fra le isole greche, ci sarà tanta Calabria, perché questo lo chiedo, cosa significa? Tutto ciò lo chiede a Gianfranco. Beh, Calabria da Mare è un progetto voluto fortemente da Croceriamo, e dal responsabile titolare Francesco Volpintesta, tende ovviamente a promuovere il territorio calabrese, con tutte le sue eccellenze enogastronomiche, in questo viaggio sull'MSC Divina, che partirà da Civitavecchia, dal 4 all'11 ottobre, e andrà a toccare le isole greche e anche la Turchia. Quindi sarà un modo per parlare di Calabria, durante questa meravigliosa attraversata. E allora, cosa accadrà, Gianfranco? Spieghiamo. Ovviamente, tutti sappiamo com'è la crociera. La crociera si viaggia di notte e ci si sposta da un luogo a un altro. Per esempio, si parte da Civitavecchia, in questo caso, si va nelle isole greche, allora un giorno si visitano, non lo so, Santorini, un giorno sono le isole che sono coinvolte, però sono tanti i luoghi da visitare. La notte si viaggia e di giorno si scende alla nave e si visitano questi posti meravigliosi. Di notte, però, cosa succede? Non è che si fa tutti a letto e tutti quanti nella propria cabina. No, ci sono spettacoli, cene. Qual è la caratteristica di questa crociera? Allora, la caratteristica è che ovviamente tutti gli ospiti a bordo avranno un cronoprogramma con le varie visite organizzate ovviamente da Croceriamo, con le varie visite dei luoghi dove appunto si fermerà la nave. La sera ci saranno dei momenti di pura Calabria, dalle sfilate dei vestiti airbrush allo show cooking dei prodotti tipici calabresi e di eccellenza, fino alle serate anche in compagnia di Cece Barretta che ci allieterà con la sua musica durante questa traversata. Quindi ci saranno tanti prodotti anche calabresi, parlavi di show cooking, quindi esibizioni. Questi show cooking riescono a riscuotere sempre più successo, è vero? Beh sì, perché è un rapporto diretto che si ha col consumatore lo show cooking, quindi permette anche l'utilizzo della materia prima e far vedere come si può essere utilizzata o reinterpretata anche la materia prima. Ripeto, è un modo questo per parlare di Calabria in un contesto molto importante, dove, ripeto, ci saranno 2.6 mila persone, quindi è un fattore molto importante questo. Ripeto, la protagonista sarà la Calabria. Ecco, la cosa importante, l'obiettivo è quello, cioè far conoscere i prodotti calabresi e la Calabria in un contesto internazionale, perché le crociere, ovviamente, nelle isole greche ci va chiunque, ci può andare un, non lo so, una statunitense, un brasiliano, un europeo di qualunque nazione, un italiano anche di altre regioni. Le crociere sono un po' un porto di mare, però è la verità, insomma, può calzare perfettamente. Allora possiamo dire che, insomma, diciamo che l'obiettivo può essere questo. Sì, è questo qui l'obiettivo principale, ovvero quello di far anche creare un'attrazione turistica della Calabria, perché, ripeto, oltre all'aspetto enogastronomico c'è anche l'aspetto culturale e la valorizzazione dei territori da visitare della Calabria. Quello che vuole abbracciare Calabria da mare non è soltanto quindi racchiuso nella mera esposizione del prodotto, ma nel raccontare attraverso la musica, attraverso le sfilate, attraverso le esibizioni che ci saranno, raccontare la nostra cultura ad un target molto variegato, perché non sarà un target, ovviamente, circoscritto in Calabria, ma stiamo parlando comunque di tutta Italia e di una buona percentuale di passeggeri europei. E allora, Gianfranchi, io ti ringrazio per il tuo contributo. Magari lunedì pomeriggio, so che c'è la conferenza stampa di presentazione di questo progetto proprio a Rende, so che ci saranno responsabili dei vertici di MSC, magari chiederemo se vorranno, chiederemo se vorranno anche coinvolgere la Calabria in alcune crociere, magari la Calabria potrebbe diventare destinazione con le infrastrutture giuste. Beh, assolutamente, alla conferenza stampa che si terrà lunedì 17 alle ore 17 presso l'Hotel Marconi a Rende, avremo anche come ospite il Sales Manager di MSC Crociera, nel quale può essere anche un monito di confronto per poter anche affrontare questo argomento, assolutamente. Grazie Gianfranco per essere stato con noi, buon lavoro in vista di questo progetto che promuove la Calabria. Noi andiamo avanti, abbiamo visto prima velocemente l'apertura del quotidiano del Sud, dobbiamo dare un'occhiata però anche all'apertura di Gazzetta con un qualcosa che, insomma, ci piace fino a un certo punto, ovvero questo titolo che è il titolo che caratterizza, non che non ci piace il titolo, non ci piace l'argomento ovviamente, un titolo che ricorda quelli che sono anche le difficoltà della Calabria. Economia con il fiatone, un potere d'acquisto in calo, ne risentono consumi e commercio. Rallenta la crescita, questi i dati che vengono fuori dall'analisi di Banca Italia che evidenza le difficoltà di una Calabria che invecchia. Le dinamiche demografiche negative pesano sul futuro economico e sociale della Calabria e questo è il dato più rilevante che emerge dall'analisi dell'economia regionale condotta alla Banca d'Italia per il 2023, presentata nella giornata di ieri a Catanzaro. Dai dettagli dell'indagine sull'andamento dell'economia pubblica e privati in regione si evince un sostanziale rallentamento e la crescita rispetto al 2022, più 0,6 rispetto al precedente 3,2. Dall'analisi Banca Italia su dati Istat, la Calabria tra il 2007 e il 2022 ha perso il 5,9% della sua popolazione residente, peggio che nel resto del paese del Mezzogiorno. Una popolazione anziana e l'emigrazione giovanile determinano la scarsa natalità e la mortalità più elevata con effetti negativi in prospettiva e sul tazzo di nascita e crescita anche delle nuove imprese. Il commercio ha resignato la riduzione del potere di acquisto che ha determinato il rallentamento dei consumi delle famiglie. E questa è un'altra notizia interessante, appunto quella dell'economia. Banca Italia ovviamente sono tanti i dati, qui ne abbiamo visto alcuni, altri li andiamo a scoprire direttamente dalla voce appunto degli dirigenti di Banca Italia perché l'incontro si è svolto a Catanzaro, l'abbiamo seguito e c'è anche qualche dato possiamo dire positivo. Sentiamo. L'economia calabrese nel 2023 ha registrato una crescita dello 0,6%, stimiamo sostanzialmente di poco inferiore alla media del Mezzogiorno e diventa più contenuta della media dell'Italia. Si direva che nel complesso l'economia continua ancora, insomma la fase di recupero avviata dopo la crisi della pandemia e siamo per molti versi su molti aspetti e su livelli anche già superiori rispetto ai valori pre-pandemici. Il fatturato delle imprese è cresciuto anche se in misura più contenuta rispetto all'anno precedente, soprattutto ha rallentato il settore dei servizi, ancora bene il comparto delle costruzioni. Nel settore manifatturiero registriamo una lieve riduzione dei volumi produttivi soprattutto per le imprese di minore dimensione. Dal lato delle famiglie sicuramente l'aumento che pure c'è stato ai livelli occupazionali ha favorito un mantenimento di una buona crescita del reddito disponibile che comunque è ancora inferiore rispetto alla crescita del costo della vita per la fiammata inflazionistica che si è avviata nel 2021. Ma nel corso del 2023 le tensioni inflazionistiche si sono andate via via riducendo e questo lascia ben sperare soprattutto per le prospettive. Sul fronte dell'occupazione al di là dell'aspetto positivo della crescita dell'occupazione che registriamo ci sono le dinamiche demografiche che sicuramente sono un aspetto importante su cui dover riflettere per il futuro. La popolazione negli ultimi 20 anni in Calabria si è ridotta questo si riflette anche sulla partecipazione al mercato del lavoro. Oltre ad un invecchiamento della popolazione incide anche un saldo migratorio interno negativo sono persone che vanno via dalla Calabria molte di loro sono giovani e in particolare anche istruiti. Questi aspetti sono stati da tenere presenti. Sul turismo abbiamo la stagione turistica ci sono delle proiezioni o comunque insomma... Il settore dei servizi come dicevo ha registrato una crescita e su questo ha influito ovviamente anche un buon andamento del comparto turistico che però registra un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno ma più contenuto ma soprattutto non siamo ancora riusciti a recuperare i livelli pre-covid su questo ancora c'è ancora da recuperare. L'aumento dell'occupazione è segno anche di una richiesta di lavoro di forza lavoro da parte delle imprese per quanto riguarda l'aspetto del reddito di cittadinanza in linea un poco quanto emerso anche a livello nazionale sicuramente si è ridotta la fratella di beneficiari si è praticamente dimezzata tra il reddito di cittadinanza e il pensione di cittadinanza poco più del 5% delle famiglie calabresi percepisce questo misurale sostegno era quasi il doppio lo scorso anno. Sulla prospettiva dell'occupazione invece occorre sottolineare anche un un disallineamento che spesso che rileviamo tra la tipologia di lavoratori richiesti dalle imprese molto soprattutto in lavoratori qualificati in discipline anche scientifiche e l'offerta di lavoro che non sempre è in grado di corrispondere alle richieste della domanda su questi aspetti le politiche attive sul lavoro possono contribuire a rendere sempre più allineato quelle che sono le esigenze delle imprese per la mano d'opera di cui hanno bisogno e l'offerta di lavoro disponibile di regione 10 bilaterali per Bergoglio insomma anche un'altra giornata importante sarà quella in Puglia del G7 poi ancora a proposito di politica l'orgoglio intanto della Premier la padrona di Casa Meloni il vertice da risultati ma a proposito di politica il clima resta tesissimo in Parlamento premierato le opposizioni abbandonano l'auro del Senato martedì protesta in Piazza e poi per i gravi episodi di mercoledì sanzionate alla Camera anche i calabresi Furguele e Stumpo qui un'altra immagine della giornata di ieri a Montecitorio e poi ancora anzi a Palazzo Madama nella sede del Senato verso le elezioni Francia caos nella destra Marescial non si candida stiamo parlando della nipote di Marine Le Pen e poi ancora altre notizie che riguardano l'Italia la tregua olimpica la domanda a Mattarella chi scatena la guerra è ottuso tutto questo è venuto fuori dalla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti azzurri in partenza per i giochi di Parigi oggi iniziano gli europei di calcio di calcio abbiamo parlato ovviamente troviamo tanti titoli sulle prime pagine dei giornali ovviamente domani si parlerà molto di cosenza nelle pagine dei giornali calabresi oggi si parla di europei ma domani se ne parlerà ancora perché domani ci sarà l'esordio dell'Italia alle 21 contro l'Albania questa sera parte invece con la Germania che è il paese ospitante il paese ospitante come sempre apre la rassegna e poi domani il debutto dei campioni in carica perché l'Italia deve difendere il titolo vinto nel 2021 ricorderete spostati di un anno gli europei a causa del covid i tedeschi affrontano la Scozia la squadra del CT Spalletti attesa dall'insidiosa Albania e poi c'è il Sanremo di Carlo Conti torna la doppia gara big nove proposte stop alle maratone questo è il nuovo festival di Sanremo questo per quanto concerne la prima pagina di Gazzetta come abbiamo detto le aperture e le notizie d'apertura sono identiche per tutte e tre le edizioni di Gazzetta abbiamo dato un'occhiata al quotidiano poi andremo a vedere le altre notizie quelle dai territori e su Gazzetta del Sud andiamo sul quotidiano e abbiamo già visto l'apertura ponte inchiesta ne abbiamo già parlato per quanto cogere ovviamente Reggio Calabria la buona notizia è quella per la sanità cosentina che arriva dal sacro cuore il punto nascita resta aperto vincono le mamme occhiuto fa un passo indietro l'avvertenza Bramo proposta troppo confusa il sindacato ha respinto la cessione di ramo d'azienda abbiamo già fatto riferimenti e ascoltato anche le parole le dichiarazioni sul report Banca Italia leve crescita nel 2023 ma la fuga dei cervelli condiziona il futuro dell'economia Calabresi da record nel Comasco alcune storie elettorali trovate interno nelle pagine del quotidiano a Cosenza l'abbiamo visto ieri riapre corso Vittorio Emanuele la chiusura dell'arteria aveva penalizzato l'accesso al centro storico caso uso alla riconsegna e alla cerimonia di riconsegna del tratto un pensiero alla famiglia Tarasi un giovane che proprio in quella zona era rimasto coinvolto in un incidente stradale aveva perso la vita Montalto chi entra in consiglio le due ipotesi a secondo di chi vincerà mentre Pasquale Nastraface ha fatto sapere che manterrà il seggio in consiglio comunale pur essendo consigliere regionale resterà comunque anche a sedere nel consiglio comunale ovviamente nei vesti dei leader dell'opposizione avendo perso le elezioni comunali lo ricordiamo a Corigliano Rossano ha vinto Flavio Stasi e non c'è del resto incompatibilità fra il ruolo di consigliere comunale e il ruolo di consigliere regionale quindi può restare Pasquale Nastraface anche in consiglio comunale noi ci fermiamo per la nostra consueta pausa ritorniamo dopo con altre notizie come dei territori altre pagine interne il web tanto altro quindi state con noi ci troviamo fra pochissimo seconda parte di prima pagina con altre notizie che andiamo a raccontare subito partendo dalla prima pagina della Gazzetta del Sud perché sono rimaste da vedere le notizie che arrivano dai territori nell'edizione di Cosenza caro Enzo Leonetti facci vedere questa prima pagina eccola qua Viale Parco le regole fissate dal comune per usufruire dello skate park allestito a Cosenza Parco del Benessere il comune pone delle regole l'accesso allo skate park dovrà essere guidato al buon senso per impedire che possa essere vandalizzato sporcato o trasformato in discarica previste pesantemente per i trasgressori le stesse regole valgono per le prise ciclabili dei camminamenti pedonali lo skate park sarà accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 23 questa è una delle notizie presenti in prima pagina poi troviamo Cetraro l'avvocato ucciso Pietro Lungo sceglie il silenzio lui che è indagato lunedì ci sarà l'apertura l'inaugurazione di pomeriggio della nuova caserma dei vigili del fuoco e poi Corigliano Rossano il sindaco nuovo sindaco confermato Flavio Stasi al lavoro per varare la nuova giunta comunale prevista appunto un confronto con la maggioranza andiamo invece nell'area centrale della Calabria Catanzaro Crotone Vibo Valenza la mezzia terma lettera minatoria all'AMC sottotiro il sindaco missiva anonima contro la società partecipata una lettera anonima scritta a mano è stata recapitata ieri nella sedia appunto della società AMC che si occupa del trasporto pubblico nel comune di Catanzaro minacce al direttore generale Luca Brancacci e al sindaco Nicola Fiorita il fatto è stato denunciato dalla polizia il sindaco ha fatto sapere che le intimidazioni non ci fermeranno continueremo a lavorare per il bene della città solidarietà bipartisan al primo cittadino al manager anche il presidente Occhiuto ha espresso vicinanza e poi le altre notizie dell'area centrale della Calabria comune la verifica apre nuovi scenari e si rivede Tallini Cosentino e Romeo si va verso il ballottaggio a Vibo Valenza alla ricerca di intese con l'area del centro che ha ottenuto circa il 28% dei consensi quindi un buon bottino per chi si aggiudicherà quei voti vertenza Abramo Customer Care i sindacati bocciano la cessione una proposta fumosa e confusa non convince quindi questo piano andiamo avanti andando sulla prima pagina della Gazzetta del Sud edizione di Reggio Calabria Drangheta e voti i palazzi tremano nuovamente si precisa su Gazzetta l'inchiesta ducale reinesca lo scontro politico-giudiziario nuovo terremoto politico a Reggio con l'attenzione puntata a Roma l'inchiesta ducale tra gli indagati il sindaco Falcomatà e il capogruppo del PD in consiglio comunale Giuseppe Sera e il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale Giuseppe Neri si alza quindi l'attenzione a Palazzo San Giorgio la maggioranza solidarizza col primo cittadino l'opposizione chiede dimissioni e Forza Italia chiedo scusa in Lega oggi diserteranno il consiglio e parlano di ipocrisia e poi ancora calcio il ritorno di Pergolizzi scelto per la panchina parliamo della regina e oggi il calcio l'abbiamo detto ha un'importanza decisamente imponente nella nostra prima pagina Rizziconi la Cosca Crea giudicata in appello tre anni a Teodoro tutto viene fuori dall'operazione Deus condotta nel 2014 e poi la cocaina arrivata al porto distribuito ovunque dai Narcos dieci condanni in tribunale siamo a Gioia Tauro il processo stralcio cripto questo per quanto concerne anche la prima pagina di Gazzetta del Sud l'edizione di Reggio Calabria abbiamo visto quelle che sono le notizie appunto che arrivano dai territori sul quotidiano invece andiamo a vedere adesso qualche altra notizia che troviamo all'interno della pagina del quotidiano ma a proposito delle notizie dei territori facciamo una piccola come dire un piccolo approfondimento rispetto a quanto accaduto ad Acqua Formosa o meno a quanto sarebbe cauta a Quacqua Formosa ci sono diverse possiamo dire diversi punti di vista sappiamo che nelle scorse elezioni nelle precedenti elezioni o meglio nelle elezioni dello scorso weekend è stato letto un nuovo sindaco che sarebbe accusato secondo quanto è stato raccontato nelle ultime ore sarebbe stato accusato da alcuni di aver distrutto la sede del sindaco e averla buttata dalla finestra lei è Annalisa Milone nuovo sindaco di Acqua Formosa la vedete alle mie spalle proprio con la sua foto ebbene questa ricostruzione che è stata fatta presunta ricostruzione ovviamente non possiamo parlare con certezza di quella che è stata di quella che è la ricostruzione è stata contestata dallo stesso primo cittadino ha detto non c'è stato non è successo niente di tutto ciò è stata una una vicenda probabilmente costruita da arte a questo punto e ci sono anche le telecamere di videosorveglianza che sono al vaglio delle forze dell'ordine ma andiamo a sentire proprio le parole di Annalisa Milone che ricostruisce la vicenda sventisco categoricamente quanto sta circolando da ieri pomeriggio sui social nessuna poltrona è stata distrutta e scalaventata dalla finestra della stanza del sindaco per noi ieri era un giorno di festa era il giorno del nostro insediamento abbiamo fatto visita in comune io i ragazzi le ragazze che fanno parte del consiglio comunale come maggioranza e cittadini che si sono uniti a noi in questo clima di festa nulla di quanto è stato scritto è stato detto è vero noi abbiamo festeggiato e nessuna poltrona è volata smentisco quindi sia nome mio che dei ragazzi e delle ragazze del consiglio del consiglio e ci tengo a dire che le immagini sono già nelle mani delle forze dell'ordine hanno già acquisito tutte le immagini della mattinata quindi da parte nostra c'è tranquillità benissimo questa è la versione appunto del sindaco che ha chiarito quanto accaduto a proposito di notizie dei territori andiamo nelle pagine interne del quotidiano per andare a dare un'occhiata a quelle che sono altre notizie e ancora il consiglio comunale aperto di Reggio Calabria che si incrocia con le vicende della nuova inchiesta e poi sull'inchiesta ducale anche l'ombra della massoneria scambio di appoggi e di favori il quotidiano diciamo che è studiato sta studiando l'ordinanza evidentemente parliamo dell'inchiesta che ha portato lo ricordiamo all'esecuzione di 14 misure cautelari Calabresi da record nel Comasco la sindaca rieletta al terzo mandato è di monasterace e non è la prima e questo insomma si racconta quanto sta accadendo nel Comasco e lei è Francesca Curtale che guida il comune in provincia di Como i nostri candidati sono un progetto politico i festeggiamenti diciamo di alleanza verde e sinistra che festeggia il proprio risultato straordinario probabilmente superiore alle attese Italia Viva sicuramente non può festeggiare come alleanza verde e sinistra ma in Calabria festeggia Filomena Greco che ha avuto sicuramente un consenso importante e poi il report di Banca Italia abbiamo già parlato del report di Banca Italia sulla Calabria si parla però anche di fuga dei cervelli che condiziona il futuro dell'economia come abbiamo visto sulla gazzetta sono stati affrontati alcuni temi sul quotidiano altri temi ancora noi nelle nostre interviste ne abbiamo approfonditi altri proprio perché il report è abbastanza vasto e non riguarda un singolo settore specifico ma l'economia nel suo complesso nel complesso invece del nostro telegiornale entriamo adesso perché è arrivata Alessia Antonucci per le anticipazioni del nostro telegiornale benvenuta Alessia benvenuta a tutti quanti che ci stanno ascoltando e grazie per l'ospitalità diciamo che hai sempre nei miei confronti ma tu sei padrona di casa siamo tutti qui siamo tutti padroni di casa e siamo tutti i veri padroni sono sempre gli spettatori lo sai insomma senti c'è stata questa sorpresa questo colpo di scena sai quale colpo di scena a livello sportivo ne abbiamo parlato ieri di Tutino rimane aspetta non sappiamo se rimane è stato riscattato pensavo che era la stessa cosa no non è la stessa cosa allora Tutino adesso con la nuova operazione del presidente Guarascio è un giocatore del Cosenza adesso mentre prima era un giocatore del Parmi in prestito al Cosenza con il diritto di riscatto cioè il Cosenza non era proprietà del cartellino di Tutino ma l'aveva avuto in squadra per un anno in prestito insieme all'operazione insieme al prestito il Parma aveva inserito il diritto di riscatto cioè la possibilità che a fine stagione il Cosenza avesse il diritto di riscattarlo quindi di acquistare il cartellino di Tutino in buona sostanza guarda il nostro Enzo Leonetti guarda come è puntuale il nostro Enzo Leonetti però lo fa vedere solamente a noi ecco qua il signore Enzino come lo chiamo Enzo Leonetti è sempre precisissimo esulta pure Tutino sta esultando insieme a noi Tutino e allora in questo momento è un giocatore del Cosenza questo cosa significa che il presidente Guarascio ha dovuto sborsare 2 milioni e 400 mila euro circa soldini più le tasse poi c'è il contratto ovviamente da fare a Tutino e questi sono dei soldi che sono stati tirati fuori adesso bisogna vedere se Tutino resterà al Cosenza oppure se visto che un po' di mercato in giro ce l'ha questo signore qui allora può essere che si decida di vendere Tutino e con ciò che viene fuori fare un'altra squadra no diciamo investire sul mercato rinforzare rinvolpare la squadra qualora Ursino e Del Vecchio che sono stati presentati oggi abbiamo visto qualcosa prima abbiamo ascoltato proprio l'annuncio sia di Tutino e sia della partenza invece di William Viali a loro decidere cosa fare in accordo ovviamente col Presidente Guarascio vabbè quindi nasce un nuovo affaire adesso c'è da scoprire se resta o non resta perché adesso una cosa alla volta Alessia adesso abbiamo ne nasce un altro perché noi viviamo di queste notizie no anche di queste attese fino al 31 agosto verranno che finisce il calciomercato ci saranno tante di quelle voci che si rincorrono e tante di conferme smentite poi non appena finisce il calciomercato il campionato del frattempo è già iniziato quindi avremo sempre di che discutere sarà sempre un tiro e molla vado in un ambito che mi è più familiare ossia l'agricoltura io pensavo che parlassi ancora di calcio ah volevo parlare sai che ho trovato una notizia interessante scommetto che hai trovato questa notizia qua guarda ce l'ha alle spalle io sono mio per gli spettatori quindi vabbè L'Ingolstad si affida a Sabrina Wittmann prima donna ad allenare i pro in Germania L'Ingolstad è stata una squadra professionistica tedesca ed è questa la notizia giusto? finalmente una donna che in Germania riesce a sedere in panchina e a guidare una squadra di professionisti non era mai successo quindi sfido chiunque a cominciare a dire che non sappiamo fare neanche il calcio non sappiamo neanche allenare le donne stanno prendo piede del calcio e vuoi un'altra dimostrazione? dimmi dimmi tu conosci Alicia? no non la conosci Alicia Alicia fammi vedere la foto ti faccio vedere un'altra cosa Alicia è una giocatrice di calcio una calciatrice si dice ok svizzera ok perché si sta parlando di questa calciatrice di svizzera questa Alicia perché è la fidanzata di Douglas Witz che è un giocatore che sembra essere vicino alla Juventus ma lei intanto su Instagram ha più fan elvetica follower più follower ok di Roger Federer di sua omestà direi Roger cosa improponibile eccolo qua infatti vedete ma guarda quanto è bella si è una bella ragazza è pure brava sicuramente sarà anche brava allora non la conosco da un punto di vista tecnico posso assicurare che è una bella ragazza 16 milioni di follower secondo me se non fosse così carina le storie non le ho viste come vedi se non fosse così carina io credo che non avrebbe questi follower però non si può avere più follower di Roger Federer diciamo che qua entriamo in un campo minato non mi addentro più di tanto però mi è venuto in mente ti ricordi qualche mese fa l'episodio della guardalinea in Inghilterra o in Spagna se non sbaglio che è andata a sbattere contro l'operatore che stava riprendendo tutti gli insulti perché una donna in campo non poteva esserci perché nello sport il calcio non è una cosa femminile quindi io sono felice di questa squadra dell'Ingolstadt in Germania che finalmente ha una donna e ne verrebbero c'è bisogno che ne vengano anche altre quindi la domenica si può fare che cosa è arrivato Tutino non so perché è arrivato Tutino perché Inghilstadt l'ha associata a Tutino ecco ancora Tutino Enzo Lorenzi si sta divertendo oggi a mandarci Tutino la domenica quindi da ora in poi si può anche pensare al calcio anche le donne devono pensare al calcio io sono una tifosa può andare a messa no ah guarda ecco qua perché c'è un'altra notizia guarda ieri ti racconto un episodio nella mia chiesa l'ho raccontato questo episodio si praticamente il prete il mio prete che sicuramente adesso mi lincerà o non mi confesserà più ha fatto un'omelia un po' lunga e io ho detto guarda che se lo dico a Papa Francesco perché? vedi secondo Papa Francesco l'omelia dovrebbe durare meno di otto minuti prendete esempio anche meno altrimenti i fedeli dormono ed è vero perché sono poi spesso parole ridondanti e quindi ha ragione Papa Francesco Papa Francesco che la domenica guarda il calcio perché è un grande appassionato di calcio Papa Francesco pensa che il giorno in cui è stato qui a scomunicare i mafiosi poi è ritornato in tempo per vedere l'Argentina Iran per vedere i minuti finali il gol di Messi perché c'era i mondiali lui che è un grande tifoso del San Lorenzo di Almagro squadra argentina che subito dopo la sua elezione a Papa ha vinto prima il campionato argentino a suo tempo era un torneo iniziale apertura e clausura ha vinto il torneo iniziale il torneo d'apertura e poi ha vinto la Coppa Libertadores l'anno dopo l'unica volta nella storia che ha vinto insomma ha portato bene al San Lorenzo vedi vedi e pensa che si racconta anche che Papa Francesco e poi andiamo ai titoli del giornale e giocò con Alfredo Di Stefano quando erano ragazzini questo lo racconta Di Stefano quando erano ragazzini Di Stefano era il più bravo del quartiere a Buenos Aires ovviamente giocavano si giocava in strada e fra quei bambini dice Di Stefano c'era anche Orge Bergoglio che giochichiava a calcio da bambino ha scelto un'altra carriera diciamo che è andata anche bene là non lo supera nessuno che cosa c'è nel nostro calderone dicevo c'è l'agricoltura perché ci sono i cinghiali che stanno invadendo le colture i campi gli agricoltori sono proprio in ginocchio non sanno più come farla come superarla questa situazione e il 18 a Cosenza a Vagliolise ci sarà una manifestazione indetta da Coldiretti però nel frattempo la giunta regionale ha approvato la delibera per quanto riguarda appunto il piano di contenimento dei cinghiali praticamente dovrebbe attivarsi non si sa quando ma si spera a breve appunto questo piano per abbattere o quantomeno contenere i cinghiali pensa che in Italia nell'anno scorso sono stati censiti 2,3 milioni di cinghiali in Italia 2,3 e hanno fatto circa 200 milioni di danni all'agricoltura italiana guarda nel mio paese si circolano anche i cinghiali sto a mare cioè circolano ovunque nei pascoli nei terreni incolti quindi bisogna prendere delle decisioni e questo sarà il centro di un servizio e poi la ciclabile arrende tu ne sai qualcosa visto che hai seguito questa parte l'abbiamo seguita già in passato e sono iniziati i lavori la protesta dei commercianti seguita il nostro giornale perché non abbiamo molto tempo purtroppo adesso per poterla approfondire ma fra poco ne parleremo e poi i migranti i migranti come dicevamo quella volta che la volta scorsa che ci siamo visti qua in rassegna che sono una grande opportunità se ne è parlata a Celico e a Casali del Manco nella comunità Il Delfino quindi questo sarà all'interno del nostro TG insieme ad altre notizie che vi proporrà la redazione condotta e capitanata insieme al calcio insieme al calcio l'abbiamo detto prima di Guaraghi e poi il calcio sarà protagonista anche nel pomeriggio ah dai dimmela tu questa notizia alle 16 la conferenza stampa ah è vero la conferenza stampa del Cosenza Calcio alle 16 la potrete seguire qui su TG quindi a tra poco con il direttore Attilio Sabato e con tutta la redazione per i nostri TG e allora grazie Alessia per essere stata con noi come sempre io ti saluto e saluto tra virgolette l'informazione calabrese con questa notizia anzi con la notizia di questo appuntamento l'inaugurazione della mostra Luigi Greco presenta la mostra di pittura Briganti l'inaugurazione della mostra è prevista per sabato 15 giugno cioè praticamente nella giornata di domani alle ore 17.30 al convento San Francesco di Paola di Casai del Manco precisamente in località Pedace la mostra sarà presentata dal professor Flavio Nimpo e da Vincenzo Napolillo questi due docenti che presenteranno la mostra Briganti mostra di pittura bene questo è anche un altro interessante appuntamento che siamo andati a volentieri a raccontare adesso chiudiamo come spesso accade con il web con le notizie che arrivano dal web notizie della mattinata andiamo su repubblica.it ecco ci siamo e ovviamente non si può non parlare del G7 e nel G7 non si può non parlare della questione russa-ucraina Putin rilancia mentre il G7 prepara l'aiuto a Kiev c'è stato il fuoco se l'Ucraina lascia quattro regioni filorusse occupate la replica nessuna proposta di pace è solo una farsa l'irricevibile pace di Putin Mosca ha detto le sue condizioni alla vigilia del vertice in Svizzera e poi a proposito di questo vertice del G7 il vertice dei grandi alla terra c'è il Papa tolto la protezione dei dritti LGBT dalle conclusioni ma la presidenza italiana smentisce e poi l'arrivo ancora di Papa Francesco in elicottero e il giro sulla golf cart con Meloni divertita gli scherzi fra i due prima dei dieci bilaterali qui ci sono appunto delle foto Draghi sfide dell'Unione Europea richiedono inedita cooperazione tra i 27 multilateralismo e Dazi per affrontare le sfide del commercio Ilaria Salis è libera tolto il braccialetto elettronico ora può tornare in Italia da europarlamentare lo ricordiamo e diretta Repubblica idea città diffusa e bueri in Italia sono 4 milioni di edifici da recuperare vediamo qualche altra notizia qualche altro giornale online andiamo sul messaggero messaggero.it ecco ancora la notizia della mattinata è la liberazione di Ilaria Salis stolto il braccialetto elettronico l'attivista tornerà in Italia entro lunedì il padre festeggeremo a casa il papa intanto scherza con Meloni siamo ancora vivi Italia nessun passo indietro su diritti LGBT pace se Kiev rinuncia a Nato e a 4 regioni queste invece le parole di Putin e all'Elba e al largo dell'isola d'Elba Iota Fuoco salvi Stefania Craxi e il marito chi è lei Marco Bassetti l'ex produttore del Grande Fratello l'immagine ci dovrebbe essere anche il video in rete di questa imbarcazione dirvorata alle fiamme a bordo del sommergibile Shiree che dalla caccia ai russi nel Mediterraneo li staniamo con i suoni e poi chiudiamo la nostra puntata di prima pagina con l'informazione calabrese andiamo su qui cosenza.it casale del manco l'inserimento lavorativo dei migranti per una vera integrazione e di questo parleremo anche noi nel corso del nostro telegiornale ladro ucciso a coltellate festa in carcere per il 48enne arrestato per omicidio e poi le notizie relative al calcio il cosenza riscatta Gennaro Duttino l'annuncio di Guarascio che arriva proprio in apertura della conferenza stampa di presentazione dei due direttori nuovi come vedete anche quest'altra notizia ovvero Beppe Ursino che vedete sulla sinistra poi in mezzo c'è il presidente Guarascio e Gennaro Del Vecchio che trovate sulla destra parla Ursino voglio vincere ma non dobbiamo sbagliare voglia matta di fare bene queste le parole di Gennaro Del Vecchio ricorderete ex mentre Ursino ha un passato anche in Calabria un passato a Crotone Gennaro Del Vecchio invece ha un passato in Serie A sicuramente come giocatore Lecce della Sampdoria poi insomma è stato anche in vista nelle vesti di dirigente nel Verona ultimamente bene noi ci fermiamo qui io vado via restate perché c'è il nostro telegiornale grazie a domani sempre alle 13.30 buona giornata grazie a domani Grazie a tutti.